Benvenuti, benvenuti cari amici di SamuBeat in questo nuovo video. Naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere i bottoni like, iscrivervi al canale e iscrivervi anche il canale Telegram. Oggi andrò a vedere che cosa potrebbe succedere su Bitcoin da qui nei prossimi giorni e soprattutto se Elon Musk e grandi istituzionali stanno holdando Bitcoin e se anzi ne stanno comprando. Innanzitutto vorrei riportarvi questo grafico di plan B che ci dice circa dove siamo. Noi siamo esattamente qua. Ora a questo punto se andiamo a zoomare vedete come qui ci sia una dip e secondo grafico di plan B dello stock to flow noi avremo scontato questa cosa qui. Se guardate e tirate una linea immaginaria possiamo osservare come il livello di 30.000 sia potenzialmente questo qua. Ora secondo me il peggio l'abbiamo passato. Ovviamente sappiamo che il nostro mercato è fortemente influenzato le notizie per cui abbiamo avuto la FAD da parte della Cina a cui si è giunto Elon Musk e poi anche la Lagarde. Quindi abbiamo avuto tre notizie ok disastrose praticamente nello stesso giorno. e questo è stato l'effetto. Ora potremmo aver scontato? Potrebbe essere un nuovo inizio? Una nuova diciamo risalita? Andremo a vederlo. Se andiamo a zoomare ulteriormente in particolare qui sul Twitter di plan B possiamo vedere come lui ribadisca questo concetto ok? Quello che è successo sostanzialmente secondo lui nel lungo appunto nel breve periodo è proprio questa dip che c'è stata. Ora che cosa potrebbe succedere? Potenzialmente se noi andiamo a vedere l'intero grafico l'obiettivo che ha plan B è sostanzialmente che nel 2027 avremo un valore di un milione di dollari su Bitcoin se andiamo a seguire queste onde qui. Ora è fattibile? Secondo me sì ok? E addirittura lui prevede entro il 2022 ok? Un valore di Bitcoin a 288 mila dollari ok? 288 mila che sarebbe un qualcosa di pazzesco ok? Noi sappiamo che Bitcoin è naturalmente caratterizzato da una forte volatilità e questo è andato anche ribadillo Michael Saylor cioè sostanzialmente lui dice nella prossima decada cioè nei prossimi 10 anni Bitcoin farà un per 10 sullo standard Imports 500 ok? Però quale sarà il prezzo da pagare? Sarà la volatilità quindi chi entrerà sostanzialmente in parabolica su Bitcoin secondo Michael Saylor ovviamente inizierà a odiare Bitcoin chi invece probabilmente entrerà sulle dip ha già più senso ok? Dal mio punto di vista perché se uno crede in Bitcoin ci crede sia quando c'è una dip ha maggior ragione ci deve credere perché ha un prezzo più basso sia che quando per l'appunto in parabolica il nostro Michael Saylor per darvi un'idea lo vedremo dopo ha circa l'80% del suo capitale in Bitcoin per cui secondo me è un qualcosa di assurdo naturalmente è stato subito intervistato da CNBC proprio per questa cosa qua ora per quanto riguarda invece Elon Musk possiamo vedere come lui ha twittato che ha le mani di diamante che cosa significa questa cosa qui? Significa che lui non andrà ok a vendere Bitcoin per quanto riguarda invece le Bitcoin True Assuries possiamo vedere come al primo posto troviamo MicroStrategy di Michael Saylor con circa 92.000 Bitcoin successivamente troviamo Tesla pensate secondo posto con 43.000 Bitcoin e vorrei soffermarmi anche su questa cosa qua anche se non ne hanno tantissimi ci sono addirittura due stati la Bulgaria e l'Ucraina e questo ci deve far riflettere la Bulgaria con 213.000 Bitcoin che sostanzialmente sono quelli che furono sequestrati alla mafia bulgara mi sembra o comunque a reti criminali e poi l'Ucraina con 46.000 Bitcoin se andiamo a vedere anche su Cointelegraph i vari articoli ok Bitcoin scivola a 36.200 dollari a causa di nuovo FAD da parte della Cina che cosa è successo? La Cina ha vietato sia il trading che il mining di Bitcoin ma tende a farlo ok? Perché questa cosa non mi preoccupa anzi è probabile ok che in futuro la situazione tornerebbe normale quindi si potrà sia acquistarlo che fare trading e fare mining questa è un po' la mia idea anzi dal mio punto di vista avete visto come ci sono i governi su Bitcoin ecco visto che la Cina non ha obbligo di dichiarare diciamo coi fatti e tende a nascondere ok? Tantissimo abbiamo visto col coronavirus e in altri casi perché è una dittatura secondo me stanno anche nascondendo il fatto che hanno Bitcoin ma questa è la mia idea ok? Per quanto riguarda Willy Wu dice che la Buran ok non è terminata l'analista diciamo prevede secondo lui che Bitcoin arriverà a 100.000 dollari per cui anche qui fate sempre le vostre doverose considerazioni ovviamente non sono né consigli finanziari né consigli di trading però però sicuramente sono un notizio che bisogna guardare per quanto riguarda invece Bitcoin possiamo vedere come attualmente il prezzo sia di 38.530 dollari naturalmente qua vediamo come ci sono stati dei volumi fortemente ribassisti ora che cosa ci serve? ci serve passare ok la media a 200 periodi sostanzialmente che in questo momento ci sta facendo da resistenza prima del nostro supporto e potenzialmente la rottura dei 42.000 dollari ok? potrebbe essere significativa per cui vedremo un po' nei prossimi giorni ok che cosa succederà però secondo me basterà ok una notizia un qualcosa che Mari smentisca ok che la Cina Mari far della Cina sarà un po' più difficile però che smentisca ok in qualche modo qualche elemento vedrete che passeremo da il panico al forte entusiasmo questa è un po' la media piccolo aggiornamento su Stella Lumens parlavamo di questo Movimento 5 ok ovviamente ora tutto è annullato ok? è tutto annullato perché ovviamente dopo il dump di Bitcoin bisogna ricreare una nuova tesi ora al momento non abbiamo alcun elemento per creare questa tesi cioè finché Bitcoin non ripasse 42.000 per quanto riguarda Stella non possiamo diciamo nemmeno ok avere una proiezione di mercato sicuramente nel complesso vediamo come la struttura rimanga bullish guardate qui che bell'arco abbiamo avuto e se Bitcoin passerà ai 42.000 quindi tornerà anche forse su Stella allora potremo ricreare a questo punto Movimento 6 andremo a vedere come si concretizzerà se questo non dovesse avvenire dovremmo attendere ok un bel po' quindi potenzialmente Stella in questa fase potrebbe fortemente lateralizzare altro elemento a segnalare è proprio che la Bitcoin Dominance sta riprendendo forza diciamo da record dei 36 eravamo addirittura arrivati a 36 ora siamo a 45 per cui mia idea è probabile che Bitcoin vada ancora a prendere più forza e ci serve ok perché? perché ora molti hanno paura di stare diciamo sulle alz di conseguenza che cosa succede? se la gente ha paura di stare sulle alz e comunque crede almeno nel mondo della criptosfera molti investitori hanno deciso di passare parte delle alz su Bitcoin e questo naturalmente andrebbe a favorire anche Bitcoin e il supporamento probabilmente dei 42.000 però secondo me sulle alz dal mio punto di vista saranno tempi duri per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di distruggere il bottone like iscriviti al canale e ci vediamo presto a presto